Ma questa è una cosa fantastica. Vero? Io ho avviso che stiamo per cominciare. No, è sparito. Sì, mi ci è bloccato un attimo. No, non vedo il professore. Sì, non lo vedo più, infatti neanche io. Attendiamo, comunque... Adesso, sì, tornerà breve. Ah no, non lo vedo più. Vabbè, noi siamo in attesa. Piccolo problema tecnico. Eccolo, eccolo. Eccolo che torna. Mi si è infilata una mascherina. Questa riunione è in diretta streaming. Devo cliccare su preso? No, no, non può chiudere. Infatti l'avevo chiusa e è successo l'ira di Dio. Eh, conviene che, penso che esca e rientri, professore, perché così... Proviamo a cliccare... Preve, preso, ecco qua. Vai, preso. Mi vedete? No. Cazzo, voi il diavolo. Oh, signore Benedetto. Allora, nel frattempo noi siamo in diretta su Facebook. Io ringrazio tutte le persone che si riferiranno. Chiedo un po' di pazienza per questi minuti iniziali. Provo a uscire e rientrare. Ma ringrazio, professore. Avete sentito la voce del professor Balestracci. Speriamo di poterlo vedere anche a breve. Grazie, grazie a tutti. Innanzitutto grazie a Casus Belli per avermi invitato. Ecco, professor Balestracci, buonasera. Buonasera a voi. Mi vede? Mi sente tutto bene? Bellissimo, meraviglioso nello splendore del massischermo. Grandissimo. Perfetto. Allora, professor Balestracci, la ringrazio innanzitutto. Buonasera, la ringrazio per essere qui. La vado a presentare brevemente. Duccio Balestracci, già ordinario di storia medievale dell'Università di Siena, posso dire medievista di pregio, si è occupato fin dall'inizio della sua attività di condottieri e mercenari, approfondendo il tema su una vasta cronologia. E non solo, ovviamente. Uno dei primi lavori è Le armi, cavalli e l'oro, Giovanni Acuto e i condottieri nell'Italia del Trecento, nel quale attraverso le fonti si ricostruiscono le vicende di quello straordinario personaggio nella penisola. Inoltre, grazie alla grandissima, straordinaria padronanza storiografica che contraddistingue il professor Balestracci, i primi capitoli portano avanti un'importante analisi delle società mercenarie del Trecento e della genesi del fenomeno mercenario, ponendosi come una pietra miliare sullo studio del mercenariato nella storia d'Italia, nella storia del Medioevo. Oltre a ciò, il professor Balestracci ha saputo spaziare nella ricerca attraverso altri argomenti di estremo interesse, quali lo studio del confronto fra culture e alfabetizzazione, senza tralasciare alcuni aspetti che potevano sembrare di minor importanza, ma che si sono dimostrati rilevanti e interessanti, come le giostre e i tornei nel Medioevo. È importante evidenziare, infine, come anche nella sua opera, vi sia un attento riesame di quelle strutture politiche istituzionali comunali del Trecento, tipiche dell'Italia centro-settentrionale, in una chiave sempre acuta di storia sociale e culturale. Io lo ringrazio di nuovo per essere qui. Stasera noi presenteremo, non so a quante presentazioni sta partecipando il professor Balestracci, la ringrazio ancora. Stasera presenteremo l'ultimo suo volume, lo mostro in webcam, che è stato d'assedio, assedianti e assediati dal Medioevo all'età moderna. Io volevo iniziare, appunto, come dicevamo prima, solo con una nota, in particolare perché mi ha colpito molto. Nell'introduzione il professore cita quattro parole in latino e dice ad impossibilia nemotenetur. Si riferisce ovviamente alla dura crisi sanitaria innanzitutto e poi politica, sociale, culturale che ha colpito l'Italia e il mondo intero a partire dal novembre, diciamo, del 2019 e che a seguito della pandemia da coronavirus. Ad impossibilia nemotenetur perché, appunto, è stato comunque complesso produrre un testo di questo genere, mi immagino, con la parziale chiusura di archivi e biblioteche in Italia. Io ho visto che finora, se ne è parlato a varie presentazioni, ma nessuno l'aveva ancora fatto, almeno non che mi risulta, quindi ho fatto una schedatura completa di tutti gli assedi citati all'interno del volume. In totale il professor Balestracci fa riferimento a 408 diversi assedi nel tempo per un totale di 299 diverse località. Le città con il maggior numero di assedi nei vari secoli citata nel volume e Pavia, vengono riportati 12 assedi a Pavia, segue Pisa con 11 assedi e infine Parigi con 7 assedi. L'assedio invece a cui sembra più legato il professor Balestracci o che comunque è più citato all'interno del volume è l'assedio di Firenze tra il 1529 e il 1530 che ricorre ben 72 volte in 288 pagine e poi c'è l'assedio di Siena, da dove immagino il professore è collegato, spero non di stato d'assedio in nessun caso. No, no, assolutamente no. che andò dal 1554 al 1555, 64 volte nell'interno del volume, Vienna del 1600, l'assedio di Vienna, non la presa, mi raccomando perché sennò qui ci facciamo nella utopia storica, l'assedio di Vienna del 1683 che è citato più di 40 volte e così nella top five ci sono anche San Serra tra il 1573 con 35 citazioni e infine la caduta dell'impero romano d'Occidente, la presa di Costantinopoli del 1453 con 33 citazioni all'interno del volume. Un po' di dati ci sono su cui ragionare. Io volevo fare onore all'associazione che ci ospita stasera e quindi su alcuni di questi assedi noi torneremo successivamente. Ma per iniziare, qual è il casus belli più frequente che lei è in grado di rintracciare anche all'interno del volume? Bene, intanto grazie a voi per questo invito che mi fa particolarmente piacere perché sì, di presentazioni ne ho fatte tante e ne faremo ancora, però l'idea di fare una chiacchierata con un gruppo di giovani ben motivati e ben attrezzati culturalmente e intellettualmente mi fa veramente piacere e me ne sento onorato. Tra l'altro le dico subito Leo che lei ha fatto quello che Musarra aveva rinunciato a fare perché quando presentò il mio libro avevo cominciato a fare una schedatura degli assedi poi ho smesso perché erano troppi e perdevo veramente il capo. Lei ha fatto un conto veramente, veramente formidabile. Mi chiede una cosa importante, qual è il casus belli da cui sono partito? Ebbene, per quanto possa sembrare strano o in qualche modo curioso, io sono partito, diciamo così, con il mio approccio epistemologico da assedi che sono vicinissimi a noi. Nella mia mente io sono partito dagli assedi di Sarajevo e Kobane, quindi cose assolutamente vicine a noi. Perché? Perché a me interessava cercare di capire, se poi ci sono riuscito non lo so, ma cercare di capire se quello che si provava in uno stato d'assedio ai giorni nostri, e poi spiegherò perché sono partito da qui, aveva una qualche corrispondenza con ciò che si provava a livello psicologico con assedi che risalivano a centinaia o anche più tempo fa. Dico questo perché nel mio escursus io parto, sì, Medioevo, Età Moderna, d'accordo, però in realtà io parto dagli assedi del primo secolo dopo Cristo, io tapata ai Gerusalemme e arrivo appunto fino a quelli recenti di Sarajevo e Kobane. Perché sono partito da questo? Sono partito da questo per il tipo di taglio che io ho voluto dare a questo libro. Questo libro, come ho scritto e come ripeto tutte le volte che ne parlo, non vuole essere un lavoro di polemologia, cioè di storia della tattica, della strategia, dell'assedio dal punto di vista militare, non perché questo non sia interessante, ci mancherebbe altro. E anzi, il primo capitolo parla di questo perché non parlarne sarebbe come voler parlare, che ne so, dell'anatomia della mano senza avere conoscenza dell'anatomia generale. E quindi il primo capitolo è dedicato a questo. Però sull'aspetto polemologico, storia della guerra, dell'assedio, ci sono degli studi eccellenti. Mi limito a citare quelli di Aldo Angelo Settia. c'è un capitolo, un corno, in realtà è una monografia, in un suo libro, che è Il riflesso ossidionale, in cui Settia ha veramente scritto quello che si poteva scrivere dal punto di vista tecnico, le macchine, i modi in cui si assedia, le strategie, il modo di costruire gli assedi, eccetera. A me non interessava tanto questo, o meglio, interessava ovviamente questo in base di partezza, ma volevo vedere il riflesso dal punto di vista psicologico, ovvero sia che cosa si prova da un lato e dall'altro quando si è in uno stato di assedio. Per questo sono partito da assedi molto recenti, perché nella nostra concezione, nel nostro modo di pensare, nella nostra cultura, l'idea di un assedio è impensabile. Non esistono più le cinte murate che possono essere prese dal blocco degli assedianti, non esistono più le città che si devono difendere chiudendo le porte, ma sono esistiti gli assedi. Sono esistiti gli assedi, già l'assedio di Leningrado non ha molto a che vedere con gli assedi di vecchio tipo, ma quelli che abbiamo conosciuto più recentemente, fatti da bombe, da cecchini e quanto di altro, non avevano molto da spartire con quelli dell'antichità, ma aveva molto da spartire il riflesso psicologico. Sono partito da questa ipotesi che poi è diventata un'ipotesi che ha retto. Se ha retto, dite me lo voi, non lo so, secondo me ha retto, per cui si reagisce in un modo abbastanza simile, sia che siamo a Iotapata nel 67 d.C., a Gerusalemme nel 70 d.C., o a Famagosta nel 1571, o a Sarajevo o a Cobane. Il modo di reagire della gente, il modo di rapportarsi all'assedio della gente, è sostanzialmente questo. Ecco il caso Sbelli, come diceva lei, da cui sono partito. Capire come ci si rapportava di fronte a una catastrofe, e ci si rapporta di fronte a una catastrofe come questa. Il mio è una storia della mentalità, vuole essere una storia della mentalità, più che una storia della guerra. Da questo sono partito. Ringrazio, professore. Lei ha sollevato già da questa prima risposta alcuni temi molto importanti. D'altronde, la serie è sempre stato un tema caldo all'interno della storiografia, in particolare della storiografia medievale italiana, e rappresenta un aspetto peculiare della storia militare d'Ukur. Mi perdonerà in questo caso il pubblico, se sono costretto alla semplificazione, da evitare sempre quando si fa ricerca, ma ne sono obbligato per motivi di tempo. Lei ha fatto riferimento alla tesi storiografica del riflesso ossidionale, teorizzata appunto sul finire del secolo scorso, e che vede, come ha detto ben lei, settia, uno dei protagonisti principali di questa tesi, che, ci vengo a sottolinearla, vede l'assedio come l'unica forma di combattimento, la privilegiata forma di combattimento dalla tarda antichità, quindi dal terzo secolo dopo Cristo, fino a tutto il pieno medioevo, quando per effetto dell'incastellamento aumenta esponenzialmente anche il numero degli assedi. Tuttavia, come si legge all'inizio del primo capitolo del suo libro, l'assedio non è cosa diversa dalla guerra guerreggiata sul campo di battaglia. Questa nuova visione storiografica della guerra guerreggiata, se non vado errato, è stata introdotta da Francesco Storti nel 2002, in Spazi e tempi della guerra del Mezzogiorno Maragonese, e vede appunto la guerra configurarsi come un approccio aggressivo e dinamico volto all'attacco sistematico e mirante al capillare controllo del territorio. Quindi una visione un po' diversa della guerra nel medioevo. Si configura appunto una relazione più stretta tra i luoghi di potere e le azioni militari, sia quelle eseguite contro il territorio, sia quelle eseguite sul territorio, o contro i luoghi forti, in questo caso fortezze, castelli, eccetera eccetera. E viene così strutturata la serie di azioni che portano all'assedio. All'interno del suo volume, quindi, questi aspetti che sono stati considerati di contorno, ma che rientrano a pieno nello studio ossidionale, anche dal punto di vista psicologico, come ci diceva lei. Quindi tutta la preparazione dell'assedio, di quello che c'è prima e poi di quello che c'è dopo. L'ultimo capitolo si chiama The Day After del suo volume. Ci puoi dire, quindi, come si articola veramente un assedio? Quali sono le fasi di un assedio? Allora, intanto una cosa importante che lei ha già accennato, il riflesso, diciamo così, tra guerra d'assedio e guerra to court. D'altronde è Von Clausewitz che dice, sto citando dalla schedina che ho sotto mano, è nell'arte degli assedi che l'intelligenza della guerra ha cominciato a venire in luce. E lei ha citato giustamente il modo di rapportarsi alla storia della guerra, alla storia degli assedi, molto innovativo, che è introdotto dal carissimo amico Francesco Storti, al quale questo mio libro deve molto, questo mio libro deve molto, dal punto di vista dell'impostazione, dal punto di vista dell'approccio epistemologico. Bene, come si sviluppa un assedio? Intanto mettiamo in chiaro una cosa. Un assedio è, come diceva Sun Tzu, una delle cose da evitare come la peste, perché l'assedio intanto distrae da altre operazioni di guerra, l'assedio costa un sacco di soldi, tiene immobilizzato un esercito. Un assedio ha sempre un esito molto allegatorio, perché non è detto che vada bene, è veramente molto rischioso, evitare quanto è possibile. E d'altra parte, passando da Sun Tzu a Niccolò Machiavelli, Niccolò Machiavelli diceva che in un assedio la cosa importante e fondamentale, se vogliamo che davvero questa guerra riesca, è prendere di sorpresa. Se la sorpresa fallisce, incomincia a essere tutto più difficoltoso. Incomincia a essere più difficoltoso, perché se la sorpresa fallisce, si può provare a prendere una città, un castello, quello che mi pare, una piazza forte, insomma, un sito assediato con l'assalto, ma l'assalto è pericoloso. E questo lo diceva già Sun Tzu. L'assalto è pericoloso, perché se l'assalto non riesce, c'è veramente da avere un esito disastroso. Oppure si può provare poi a prendere una località assediata attraverso la fame, attraverso il blocco. Benissimo, d'accordo, perfetto. Però il blocco è tanto problematico per chi è assediato quanto per chi assedia. Dal momento che non si sa quanto può durare, non si sa su quali stagioni poi finisce per sgranarsi, un assedio si può mettere in primavera, ma può durare un anno, può durare un anno e mezzo, e qui nel mezzo ci sono gli inverni, ci sono le piogge, c'è tutto. E questo vuol dire che chi è assedia deve alloggiare fuori, deve alloggiare all'aperto, deve trovare anche egli, e non soltanto quelli dentro, il modo di sopravvivere, le vettovaglie, vettovaglie per gli uomini, vettovaglie per gli animali. Guardi, c'è una considerazione molto interessante e molto giusta, che dice Biagio di Monluc, a proposito dell'assedio di Siena, non è che cominci a citare l'assedio di Siena perché sono senese, d'altronde non è colpa mia, non lo dico io, se vari studiosi storici dell'economia, storici della guerra, hanno definito quello di Siena uno dei dieci assedi più disastrosi che ci siano stati, fra il medio e l'età moderna, quindi non è che lo faccio per amor patrio, in questa fase non mi importa assolutamente niente. C'è una frase che scrive molto bella, Biagio di Monluc, dice se nell'inverno del 55, Siena si arrende a patti nell'aprile, perché dentro la città c'è rimasto soltanto i mattoni da mangiare, non c'è rimasto altro, se nell'inverno del 55 Dio ci avesse dato la neve, gli assedianti sarebbero stati costretti a levare il blocco, perché non ce la facevano più, perché Cosimo dei Medici stava spendendo cifre paurose ogni mese per questo assedio, perché il Medici, il Medichino, Giovanni dei Medici, non ce la faceva più con i suoi uomini. Successe che quell'anno non nevicò e quindi la storia prese un'altra curvatura. Quindi questi sono gli elementi che costituiscono in qualche modo l'inchiavardatura della macchina dell'assedio. All'interno di questa inchiavardatura ci sono le problematiche che coinvolgono quelli che assediano, lo ho detto appena, e ovviamente questo è ovvio. scontato, quelle degli assediati. Assediati che, quando si tratta di assedio di blocco, cioè completamente una città o un castello totalmente chiuso, devono sperare che le risorse siano sufficienti, che non venga tagliata l'acqua, che ci sia la possibilità di trovare cibo da qualche parte, in qualche maniera, perché diversamente la vicenda è perduta. queste sono le coordinate diciamo all'interno delle quali si muove una guerra d'assedio. All'interno di queste poi ci sono le reazioni psicologiche e in questo caso sono molto forti quelle degli assediati, ma non meno forti quelle degli assedianti, perché quando anche gli assedianti non ce la fanno più, le reazioni psicologiche sono estremamente interessanti. non è che prendono e se ne vanno via e tornano a casa, in qualche caso cambiano campo, preferiscono diventare assediati e passano dalla parte degli assediati pur di continuare a ricevere comunque sia una paga qualcosa da mangiare e così via, piuttosto che non restare a fare la fame fuori dalla città assediata. Lo so che nella nostra mentalità tutto questo può sembrare può sembrare un po' stravagante. Siamo tutti figli di un'idea romantica, romanzesca, cinematografica dell'assedio. Quelli di dentro sono dei condannati a morte, quelli di fuori se la passano bene. No, quelli di fuori non se la passano bene, perché quando quelli di fuori hanno finito le vettovaglie non vanno alla COP o alla CONAD a fare la spesa. Devono procurarsene e se il territorio è già stato messo a sacco, è già stato sfruttato o precedentemente distrutto con predistruzioni tattiche da parte degli assediati che fanno terra bruciata per non lasciare vantaggi a chi li assedia. Vedi i turchi di Gerusalemme quando arrivano i soldati crociati che si trovano davanti il deserto, veramente il deserto i crociati. Gli hanno tagliato anche l'acqua, non sanno come fare. A questo punto anche gli assedianti si trovano a dover fare i conti con delle difficoltà che non sono difficoltà di poco conto e che non si risolvono in maniera semplicistica. Ecco, queste sono un po' le coordinate all'interno delle quali si muove una guerra di assedio con quei riflessi ossidionali ai quali abbiamo fatto certi riferimenti. Grazie, professore. Le sue risposte sono sempre piuttosto complete e disassutive e ci danno un quadro iniziale di quello che è il suo volume che io invito a leggere. Anche io l'ho scritto apposta, compratelo, leggete, perché non si va a fare sennò per divertimento comprate il libro. Ci sono alcuni spunti molto interessanti. Uno di quelli che mi ha colpito di più è relativo alla musica e al rumore a cui si fa comunque abbastanza un costante riferimento all'interno del volume. Per esempio si dice che suonano e cantano i turchi fuori da Costantinopoli, rullano i tamburi, il volume si apre proprio con appunto i suoni di un assedio. Quindi si dà un'immagine dell'assedio ma un'immagine viva, piena di suoni e di rumori. Dal lato degli assediati ovviamente c'è un suono che è più forte degli altri che è il suono delle campane. Si sommano a tutti questi suoni poi i rumori delle macchine belliche, prima quelle attrazioni a corda, trabucchi, trabucchetti di cui lei cita vari esempi e poi le macchine d'assedio le armi da fuoco come per esempio proprio nell'assedio di Costantinopoli del 1453. Ma quindi come funzionava? Era un gioco di suoni e rumori l'assedio? Il fonosistema è assolutamente fondamentale da questo punto di vista perché per quanto possa sembrare soltanto folcloristico o possa essere scambiato per una banalizzazione filmica il rumore i rumori hanno una loro funzione di costruzione o decostruzione se vogliamo psicologica mi permetto di fare una piccola una piccola parentesi se qualcuno ha avuto occasione e chi non l'ha avuto lo faccia di andare a Varsavia a vedere quel capolavoro che è il museo dell'insurrezione di Varsavia che è realizzato veramente molto 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 bene forse con le tecniche di oggi si potrebbe fare ancora meglio ma è fatto veramente molto bene chi ha avuto modo di vederlo o chi non ha avuto modo ci vada si rende racconto e si rende conto che tutta l'esposizione tutta la parte espositiva di questo museo tutta la narrazione di quella che è stata l'insurrezione di Varsavia contro i tedeschi è scandita dal punto di vista diciamo così dell'udito dai rumori quotidiani dell'epoca ovvero sia esplosioni grida urla sirene e quanto di altro per far capire al visitatore per far entrare far immergere il visitatore del museo in quello che è lo spazio psicologico il fonosistema psicologico di uno stato di assedio di uno stato di uno stato di guerra il rumore è un aspetto fondamentale perché il rumore serve a intimorire la musica serve in maniera alternativa o a rincuorare quelli che che combattono la musica la musica di guerra no? per capirsi molto bella molto molto scandita pensate a quelle che sono le pavan di guerra del rinascimento musicale delle cose bellissime da questo punto di vista e dall'altra parte a intimorire perché i rumori le musiche di guerra vogliono significare un attacco imminente che ci si sta preparando i tamburi che rullano il chiasso è una forma di di minaccia la musica ha una funzione che è una funzione appunto intesa complessivamente una funzione di comunicazione si comunica quello che sta per succedere vi stiamo per attaccare attenzione sentite rulliamo i tamburi squilliamo suoni di guerra attenzione ci stanno attaccando oppure in qualche altro caso la musica serve come charivari si mettono i musici sulle mura assediate e si offre agli assedianti un bel concerto per prenderli per i fondelli dicendo vedete questo rientra in tutto il discorso delle beffe e in tutto il discorso degli esorcismi della paura che secondo me sono estremamente importanti per capire la psicologia durante un assedio si fa questo si usa il rumore si usa la musica si usa un fonosistema si costruisce un fonosistema per costruire un ambiente diciamo così psicologico che è di incoraggiamento per chi attacca o si difende e invece dissuasorio nei confronti dell'avversario è un elemento importante che non è soltanto un qualche cosa diciamo così da colonna sonora da film da film di guerra grazie professore io credo che tuttavia connessi alla sfera sensoriale dell'udito in un assedio non possono essere non citati i pianti delle donne e dei bambini essi sono proprio le vittime più deboli non saprei come definirli di un assedio ma devo dire che grazie al suo volume comprendiamo il ruolo e l'importanza soprattutto delle donne all'interno degli assedi cito testualmente il suo volume non sfugge comunque il modo in cui tutta la costruzione retorica che enfatizza la donna nella guerra attraversa un cono di luce dovuto allo stato di eccezionalità e di provvisorio rovisciamento dei ruoli e collocazioni sociali sono delle parole veramente eccezionali eccezionali devo dire la verità ma ci fa qualche esempio di donne che combattono donne che sono utili negli assedi e donne che lo sono lo sono utili negli assedi forse questo è un po' maschilista questa frase però nel senso le donne ci sono sempre e negli assedi hanno un ruolo ancora più importante Leo la ringrazio molto di questa domanda perché il ruolo della donna ho cercato di di metterlo in luce in questo libro e mi ha coinvolto mi ha veramente coinvolto molto mi ha coinvolto molto perché il ruolo della donna è quanto di più ambiguo da un punto di vista come dire di per sé e dal modo in cui è percepito le donne sono percepite in qualche caso come diceva le donne che per piangono le donne che piangono le donne che piangono e si disperano sono il contrapunto della presa di Costantinopoli del 1453 perché mentre i turchi stanno stanno facendo irruzione e mentre le campane suonano a martello ancora il fonosistema e mentre si urla si prega le donne inginocchiate pregano il Padre Eterno che le scampi da quello che sta succedendo non ci sarà nessun Padre Eterno in questo momento che verrà loro in aiuto c'è il caso di un assedio siamo all'interno delle guerre contro i turchi nel Mediterraneo in cui il comandante dice sentite per te portatemi via queste donne perché io non ce la faccio più nel senso che queste intanto non servono a niente sono bocche inutili non partecipano all'incompenso stanno tutto il giorno a pregare a piangere a gridare non se ne può più mi scoraggiano anche i soldati c'è un altro che gli dice no sta fermo amico bello perché se le donne le mandi via queste donne sono le mogli di molti che difendono la città se le mandi via vanno via anche gli altri stai attento e quindi se le tiene e si tiene queste donne ma non è questo l'aspetto più importante la donna lo uso veramente al singolare usando questa categorizzazione che a me dà sempre molto fastidio la donna l'uomo mi ricorda tanto quel vecchio film di Benigni la donna la donna la donna o l'uomo mi ricorda sempre questa bella questa bella scena però la uso volutamente le donne hanno un ruolo importantissimo nelle guerre nelle guerre d'assedio perché partecipano non soltanto pregando non soltanto piangendo non soltanto rompendo le scatole ai soldati ma le donne hanno un ruolo fondamentale perché hanno un loro compito nella manutenzione delle fortificazioni che è un fatto importante perché le fortificazioni sono sottoposte ai colpi dei bombardamenti con le catapulte ma anche poi con le bombarde e quello che vogliamo hanno un ruolo importante come diciamo vivandiere perché sono loro che si incaricano di cucinare e portare il cibo ai difensori hanno un ruolo importante come sentinelle perché in qualche caso le donne vengono utilizzate nelle funzioni di vigilanza hanno un ruolo importante perché le donne combattono vanno sulle mura e combattono imbracciano le armi e combattono a sedia dell'Alcazar 1936 le donne che sono dentro l'Alcazar che sono le mogli dei soldati degli ufficiali chiedono di poter combattere di poter partecipare alla difesa e il colonnello Mosquardò dice assolutamente no non sta bene non fa parte dell'etichetta di una donna imbracciare un'arma e combattere ma per il resto ho citato anche nel libro questo esempio come esempio diciamo così estremo da un altro punto di vista perché le donne combattono le donne combattono e le donne hanno un ruolo che poi sfocia addirittura nell'epica oltre a combattere nella mitologia e nell'epoca assedio di Ancona Ancona assediata dal Barbarossa e dai veneziani il caso di Stamira o Stamura chiamata come vi pare ci sono entrambe le edizioni c'è da buttare una botte incendiare una botticella piena di liquido incendiario contro le macchine del Barbarossa viene buttata questa botticella sì però questa botticella deve essere spaccata e incendiata se non si è fatto niente nessuno se la sente tutti quanti che dicono no vai avanti te che a me mi viene da ridere Stamira prende un'accetta va spacca da fuoco e incendia le macchine le macchine delle degli assedianti come lei Caterina Segurana 1543 siamo sulle mura di Nizza assediata dai francesi Nizza Savoyarda assediata dai francesi spalleggiati dalle dalle truppe di Soleimano quindi dai dai turchi Caterina Segurana che sulle mura combatte addirittura butta di sotto una salitore e con un gesto sconcio si scopre l'epudenda bellissimo questo aspetto plebeo bactiniano se vogliamo prendendo in giro diventa un'eroina ma come lei come loro molte altre le donne di Ancona che questo è il racconto di Boncompagno da Signa ben inteso all'inizio del 200 che non sappiamo ovviamente quanto simile al vero ma importante dal punto di vista della narrazione di questo episodio che cosa diceva un compagno da Signa dice che le donne di Ancona quando Ancona non c'è rimasto più niente da mangiare non si sa più davvero come fare si offrono ai loro uomini dicendo ammassate noi mangiate noi perché tanto se ci lasciate in vita e entrano in città quegli altri il nostro destino già lo sappiamo carne da stupro saremo violentate e saremo massacrate allora ammazzateci voi mangiateci voi e sopravvivete voi capite benissimo il cerchio antropologico la donna che dà la vita è quella che poi ridà la vita offrendo se stessa per salvare il proprio onore la patria e i propri uomini quindi c'è una narrazione del ruolo fondamentale dell'assedio di Siena del 1554-55 le tre schiere di donne vagamente da 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 intendersi ci sono citazioni del Molluc che però ripete riprende altre riprende altre altre citazioni Molluc è un trappolatore da far da far paura ma questo questo non importa le tre schiere di donne che combattono sulle mura ma sì certamente indubbiamente una di queste l'audomere forteguerri l'audomere forteguerri è una pregevole poetessa che cosa succede all'audomere forteguerri intorno alla sua figura nasce una diciamo così una situazione mitopoietica perché dice la storia dice il romanzo l'audomere forteguerri donna muore sulle mura di Siena per difendere le mura di Siena no non muore manco di niente perché l'audomere forteguerri è viva alla fine dell'assedio ma non ci importa la storia biologica dell'audomere forteguerri che è sopravvissuta benissimo e ne siamo tutti felici ci interessa il costrutto mitopoietico perché intorno alla donna si costruisce questo aspetto che fa della donna un qualche cosa che va al di sopra del genere così come è considerato così come è considerato all'epoca qual è la cosa che a me è interessato molto in questo senso è che questa estrapolazione del ruolo della donna questa mitizzazione del ruolo della donna questa mitizzazione antropologica ancora del ruolo della donna appena finita l'emergenza ritorna nel cono d'ombra e le donne ritornano ad essere soltanto donne e veramente questa parte questa parte dell'analisi che ho fatto non ci voleva questa parte dell'analisi per capire che le donne hanno una loro visibilità in maniera strumentale solo in momenti particolari e poi ritornano indietro benvenuti nella società maschilista e sessista buongiorno sono millenni che questo esiste non ci voleva certo il mio studio per capirlo ma mentre ho costruito questa narrazione mi è stato molto chiaro veramente molto chiaro il ruolo strumentale che la donna riceve nei casi di catastrofe che diventa perfino appunto un ruolo mitopoietico antropologicamente mitopoietico per poi ritornare nella virgolette normalità appena la catastrofe è finita e appena si ritorna alla cosiddetta normalità grazie professore io ho notato all'interno del volume che lei dialoga molto con le fonti e soprattutto ne discute sull'attendibilità o meno mi viene in mente mi è venuto in mente leggendo il suo libro quanto diceva Mark Bloch in La guerra e le false notizie diceva non esiste buon testimone né deposizione esatta in ogni sua parte ma su quali punti un testimone sincero e che ritiene di dire la verità merita ad essere creduto una frase emblematica che si accentua ancora di più diciamo accentua il suo carattere ancora di più in una fase d'assedio risulta dall'intero volume un quadro molto variegato e molto complesso della società della psiche umana nell'assedio d'altronde come diceva anche il famoso polemologo Gaston Botul la guerra è il più spettacolare dei fenomeni sociali la società medievale e poi quella successiva dimostra una differenza sostanziale nel medioevo si può dire che forse non esista uno scollamento tra la società civile e la società medievale nell'assedio di Parigi ancora nel 1590 e cito si aiuta a uscire dal luogo comune degli effetti diretti della guerra sui civili a proposito dei quali si devono invece analizzare rapporti e reciproche influenze tra la sfera civile appunto e la sfera militare e fa anche l'esempio di un assedio vicino a me l'assalto ad Alife portato dagli abitanti dagli abitanti di Piedimonte nel 1459 senza una guarnigione cioè senza un aiuto militare loro sconfiggono la guarnigione militare e affermano l'autorità del sovrano aragonese alla fine nelle testimonianze dell'epoca che poi si sono state riportate ancora una volta da storti in un saggio in cui davvero la popolazione partecipe della guerra a 360 gradi è protagonista a 360 gradi comunque questo commissario aragonese che riporta la notizia di questo evento dice che secondo lui quella è la più bella guerra della guerra del mondo e quindi allora com'è questo rapporto tra civili e militari e come si è evoluto fino agli assedi contemporanei in particolare lei fa riferimento a Stalingrado che forse il meno tipico degli assedi è quello che più si differenzia da quello assedio dagli assedi che lei ci presenta all'interno del volume ma che ha comunque una sua specificità nel rapporto appunto tra la popolazione civile e la popolazione militare certo Leningrado non sta Leningrado sì 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 non si preoccupi guardi io ogni volta che parlo della battaglia di Montaperti dico sempre che probabilmente è cominciata a pieva pagina mentre invece è pieva sciata e tutte le volte chi mi ha ascoltato penserà questo è completamente imbecille perché ha sbagliato la pieve una gaff del tutto del tutto normale sì il rapporto tra militari e civili è un aspetto importante perché siamo un po' troppo abituati a pensare che il il rapporto sia un rapporto come dire sbilanciato del tutto sbilanciato cioè i militari fanno il bello e il cattivo tempo è anche vero i militari fanno il bello e il cattivo tempo perché poi quando i militari si trovano in condizioni che non non sono per loro quelle che vogliono dicono signori belli o si fa come diciamo noi oppure noi prendiamoci e usciamo e sono cavoli vostri vedetevela voi però al di là di questo al di là di questo il rapporto da analizzare è un rapporto molto più complesso ed è un rapporto di interazione tra i civili e i militari che non è fatto esclusivamente di gesti soverchianti da parte dei militari di primazia dei militari nei confronti dei civili ma al contrario di un bilanciamento di un tentativo di trovare un bilanciamento di un rapporto di un equilibrio che tenga in qualche modo conto di entrambe le esigenze e entrambe le componenti e questo lo troviamo in tantissimi in tantissimi casi lo troviamo per esempio quando si tratta di dover di di dover decidere chi è che decide quando si buttano fuori le bocche inutili da una da una città in questo caso è chiaro la prima risposta i comandanti militari sì è vero d'accordo giusto però c'è in tutto questo una negoziazione un bilanciamento a volte degli scontri anche molto forti con i rappresentanti della popolazione della popolazione civile in qualche caso i militari sono soverchianti perché hanno i militari bisogna che mangino che dormano e che abbiano non so che far ridere e che abbiano le donne perché è un'esigenza fisiologica e quindi quando non si possono avere leggevolmente è chiaro che questo crea una criticità nei confronti della popolazione civile però se prescindiamo da quelle che sono le criticità non perché non esistano ma perché vanno collocate nel loro aspetto di sistema nel posto giusto ci rendiamo conto che quello che dobbiamo trovare è capire è il modo in cui si bilanciano le forze militari con i cittadini credo che da questo punto di vista un laboratorio molto importante sia quella sedio che lei mi diceva ho citato tantissime volte che è quello di Firenze del 1529 è un laboratorio importantissimo da questo punto di vista veramente importante perché lì davvero si misura e si tocca con mano quello che è il rapporto tra i militari e i civili e si tocca con mano anche sotto la luce di un aurorale diritto di guerra che sta che sta nascendo perché proprio a Firenze 1529-30 si mette alla prova il concetto di buona guerra e mala guerra e quando i comandanti fiorentini cercano di contrattare con il comandante imperiale l'applicazione della buona guerra anche ai soldati ai soldati ai civili in armi di Firenze si sentono rispondere no non se ne parla nemmeno perché il concetto di buona guerra ovvero sia rispettare il prigioniero il pagamento del riscatto il quartiere come si diceva che in genere era un mese di paga sono tutte convenzioni fra militari i civili in armi non hanno titolo non hanno titolo a partecipare a questo tipo di accordi scusatemi ma vi ricordate tutti quanti come venivano considerati i partigiani dai tedeschi durante l'ultima guerra mondiale non erano considerati una forza civile in armi che combatteva erano banditi ed è lo stesso concetto che esprimono gli imperiali che assediano Firenze sto continuando a usare questo laboratorio non potrei usare altri ma questo mi fa molto comodo perché funziona bene i quali dicono no 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 i cittadini in armi sono banditi e se sono cittadini stanno fermi e depongono le armi se hanno le armi in mano sono dei ribelli vedete da questo punto di vista tutti quanti noi siamo vittime di come ci è stata insegnata la storia no voi siete giovani per fortuna vostra io no e quando ero ragazzo io la storia ce la insegnava in una maniera infame che per continuare a amare la storia bisognava veramente avere le turbe psichiatriche in essere come nel sottoscritto perché quando eravamo giovani ce le insegnavano per gesti clamorosi ultime parole famose medaglioni e quanto dia e fra i medaglioni che ci ammanivano ahimè temo che continuino a ammanirgli nella scuola c'era anche il medaglione di Francesco Ferrucci Vile Tucci di un uomo morto Francesco Ferrucci era il veramente l'eroe senza macchia senza paura quell'infame schifoso di Maramando era veramente un un Maramando come si dice poi per carità da grandi ci siamo incrociati con qualche con qualche pagina di Antonio Gransci e si dice oddio come ma com'è il fatto che Francesco Ferrucci era comunque il portatore di una di una cultura retriva e morta e Francesco e invece Fabrizio Maramaldo era il portatore della novità e lì abbiamo allora al di là di questo quando Fabrizio Maramaldo ammassa il Ferrucci presso prigioniero e in quelle condizioni di inferiorità sì per carità fa un gesto infame fa un gesto dal suo punto di vista di giustizia perché Fabrizio Maramaldo intanto è un civile in armi e quindi è un ribelle due oh Fabrizio Maramaldo non era questo eroe senza macchia senza paura era un bel figlio di una gatta a strisce perché ha fatto certe zozzerie Fabrizio Maramaldo da vomitare ha fatto bruciare una chiesa con prigionieri feriti dentro che non potevano muoversi ha fatto ammazzare un messo non si fa perché fra le regole di buona guerra c'è quella di rispettare gli araldi rispettare i messi rispettare gli ambasciatori e lui lo ha fatto mettere a morte era un paranoico della miseria Fabrizio Maramaldo Francesco Perrucci tanto per capirsi e Fabrizio Maramaldo fa una carognata che non si ammazza nessuno non si ammazza anche un animale figura di una persona fa una carognata ma fa un atto di giustizia perché aveva davanti a sé un bandito che aveva per di più infranto una delle leggi fondamentali della buona guerra ecco che qui nel laboratorio fiorentino si capiscono davvero in maniera pratica in maniera pragmatica toccando con mano i casi i nomi le vite le biografie delle persone si capisce il rapporto tra civili e militari è veramente su questo che è un rapporto complessissimo ho scritto delle pagine bellissime chitolini altri ma adesso non facciamo storiografia perché se no annoiamo annoiamo e basta ma è qui che dobbiamo capire non accontentarci dei luoghi comuni i soldati prevaricano sì certo che prevaricano ci mancherebbe altro ma lo sappiamo perfettamente i civili subiscono certo che subiscono lo sappiamo perfettamente ma il rapporto è più complesso di così non è mai il bianco contro il nero o viceversa ma è capire le 50.000 sfumature di grigio che tra questi due campi si intersecano e da questo punto di vista episodi io ho citato quello di Firenze ma ve ne potrei citare un'altra decina di tutte quelle centinaia che poi me la manda per piacere Leo tutta questa perché nemmeno io me ne sono mai resso conto se gentilmente me la manda le sarò profondamente profondamente grato è proprio da questi episodi che si capisce il rapporto concludo subito in una maniera molto semplice Montalcino 1555 tutto un gruppo di senesi che non accetta la capitolazione si ritira in Montalcino si detta così può sembrare che sono un branco di imbecilli o di persone di romantici che vanno a Montalcino dopo per di più c'è anche il Brunello Bono all'epoca non c'era niente perché il Brunello è nato dopo all'epoca c'era un vino come tutti gli altri Montalcino è la città appunto di riferimento di tutta una parte dello stato senese che non si è arresa nel 55 e che significa la Val d'Orcia che significa una grossa parte della Maremma e in cui i vincitori devono guadagnarsi la vittoria giorno per giorno assedio per assedio e battaglia per battaglia e che continua a finire il 1559 non è Montalcino assediata in maniera romantica è mezzo stato senese che non ha accettato accettato la rete Montalcino assediata nel 55 59 e lì problemi come dire tenere il bilanciamento tra popolazione civile e militari è veramente molto arduo perché i militari logicamente si riservano le decisioni le decisioni importanti vogliono le chiavi dei granai non vogliono che i civili tengano in mano le armi e questo non per prevaricazione ma perché i soldati sono partecipi di questo concetto giuridico ancorché aurorale di buona guerra che sta che sta nascendo non è prevaricazione è andare dietro a un giure che sta che sta nascendo in questo senso e quindi i rapporti sono non tesi ma molto delicati e necessitano di continui bilanciamenti e tuttavia sono bilanciamenti che funzionano funzionano perché poi quando anche Montalcino nel 59 pace che tocca in Brasil dovrà abbassare abbassare le armi rimane un senso comune da parte della popolazione e di amore nei confronti di questi soldati quando Michel de Montagne passo da Montalcino siamo in anni ottima del 500 vorrebbe visitare vedere le tombe dei suoi connazionali morti e i montalcinesi dicono non si può detto in senese non si può perché il granduca ormai granduca appunto Cosimo dei Medici ha proibito ha creato una specie di annazio memoria però dice Montagne quando questi montalcinesi parlano dei miei connazionali che hanno partecipato alla sedia e sono morti lì piangono e si commuovono perché li sentono comunque erano soldati e manco montalcinesi erano soldati francesi li sentono e li avvertono se Montagne dice il vero ben inteso come diceva lei giustamente la decostruzione delle ponti è sempre fondamentale ma se dice il vero è testimonianza comunque sia di un difficile complesso rapporto che in ogni caso evidentemente in qualche maniera ha trovato i suoi punti di bilanciamento grazie professore noi ci avviamo quasi alla chiusura perché ormai stiamo parlando da un'ora ma io non me ne sono accorto radicalmente nemmeno io io sono io sono un prostatico della parola 72 anni sono un prostatico e della parola soprattutto davvero chi sta ascoltando a questo punto ha un varicocele che non finisce mai comunque io le faccio l'ultima domanda poi vediamo se ci sono delle domande che i nostri spettatori ci vogliono porre così gliele giro come in gergo diciamo gliele giro io io non ho ancora cenato in verità io ho fatto un aperitivo come diciamo un aperitivo vestito intorno alle sette quindi siamo entrambi più o meno qualcosa ci andremo ne lo so io allora facciamo questo esercizio questo gioco immaginazione immaginiamoci devo farci a Napoli per esempio che è l'unica città europea che ha cinque castelli in città io da un paio di anni collaboro con l'Istituto Italiano dei Castelli con la sezione Campania e appunto trovarmi a parlare di un volume sugli assedi è anche qualcosa che mi avvicina molto a questo aspetto dell'architettura militare architettura fortificata Napoli ha anche subito nove assedi nella sua storia un numero non indifferente e tra l'altro ha avuto sempre il problema degli sbarchi in città praticamente il Castel del Lovo dove c'era quasi il limite della fortificazione era quasi sempre arrivavano Saraceni e poi successivamente oppure se immaginiamo di trovarci a Siena nell'assedio della metà del Cinquecento effettivamente a me quanto 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 cibo mi toccherebbe quanto pane mi daribbero e poi sapendo che sono un universitario questa è una domanda che non ci si aspetta ma gli universitari sono salvaguardati negli assedi? Allora quanto cibo le toccherebbe? Pochino perché ovviamente quando il cibo comincia e comincia presto a dover essere razionato i privilegiati sono i soldati che ricevono ora è logico qui stiamo parlando di epoche molto diverse quindi è difficile dire ricevono un chilo mezzo chilo però diciamo che i soldati sono comunque salvaguardati e d'altra parte attenzione perché la proporzione del cibo tra soldati e civili e poi all'interno dei civili i maschi che sono potenzialmente utili per la difesa hanno comunque una razione maggiore rispetto alle donne e non parliamo rispetto ai bambini le proporzioni tra l'altro sono quasi le stesse fra il medioevo e quello che ritroviamo a Leningrado a Leningrado ritroviamo praticamente le stesse cose quindi quanto cibo le sarebbe toccato? le sarebbe toccato poco un po' di pane diciamo un treetti mezzo mezzo chilo era già tanta roba al giorno di pane non ci dimentichiamo che noi siamo abituati a utilizzare il pane per fare la scarpetta e per fare il companatico ma stiamo parlando di situazioni in cui il cereale è il più importante il più importante apporto di cibo quindi le sarebbe le sarebbe toccato abbastanza abbastanza poco da questo punto da questo punto di vista la seconda parte della domanda invece era come mi dicevano degli universitari e altri sono valutati come dicevo prima in fuori onda quando abbiamo parlato deprecando il tasso di interesse che caratterizza il nostro paese per il lavoro intellettuale per il lavoro che dovrebbe servire a far crescere un paese quando vi ho detto voi sareste state le prime bocche inutili buttate fuori dalla città perché gli universitari i giovani i giovani studiosi i giovani avviati alla carriera universitaria nell'Italia di oggi non servono assolutamente a niente li possiamo tranquillamente sacrificare nell'epoca alla quale ci riferiamo ovvero medioevo e prima età moderna era esattamente il contrario ovvero sia si capiva perfettamente quello che l'Italia attuale non fa una gran fatica a capire oggi anzi non capisce proprio niente cioè che il capitale umano è quello che costruisce poi la ricchezza del domani che se investi sul capitale umano giovane oggi ti ritrovi delle risorse domani se deprimi il capitale umano giovane oggi domani ti ritrovi in mano un paese di vecchi che non serve a niente per di più vecchi ai quali nessuno pagherà la pensione perché se non ci sono i giovani a lavorare a noi vecchi la pensione non ce la paga più nessuno allora all'epoca invece persone come voi cioè studenti universitari o giovani ormai non più studenti universitari ma avviati a una carriera intellettuale avrebbero avuto un occhio di riguardo un occhio di riguardo significa cercare di in caso di ristrettezze alimentari di farvi rientrare all'interno di fasce privilegiate e di salvarvi dai dai servizi più pesanti da preservarvi dai rischi di un combattimento da non considerarvi assolutamente bocche inutili da buttare fuori dalla città ma al contrario da tenere da tenere ben stretta quando Siena capitola a patti ci insisto su questo fatto del capitolare a patti perché ogni tanto mi sono sentito dire Siena è stata conquistata Siena non l'ha conquistata nessuno eh si arrende a patti all'impero non l'ha conquistata un cappero di nessuno non mi rompete le scale dico sempre dico sempre a tutti quando Siena si arrende a patti fra i patti che Siena mette come elementi fondamentali per arrendersi noi ci arrendiamo ma chiediamo che siano rispettati questo 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 ovvero la vigenza degli statuti la vigenza del nostro sistema di mercato c'è la richiesta che venga rispettata l'università l'università non si deve toccare che nessuno tocchi l'università a Siena ma Siena come altri come altri casi Siena perché è lo specimen che in questo caso ci interessa c'era una consapevolezza del capitale umano molto più forte rispetto a quello che potevano essere gli intellettuali che poteva essere la manodopera specializzata potevano essere certi particolari certi particolari personaggi esperti di tecniche sapete come il grande Michelangelo Buonarroti se la cava a Firenze Michelangelo Buonarroti era un grande artista ma dal punto di vista civico insomma parliamone quando incomincia a mettersi male il suo l'asserio lui si cuce dentro il giaccone una quantità di soldi e scappa eh o bravo Sant'Antonio dopodiché il governo cittadino dice bene amico bello o ritorni Michelangelo Buonarroti non è che interessa in questo caso come artista interessa come 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 persona esperto di 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 armi di 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 fortificazioni e quanto di altro e quindi gli dicono amico bello o ritorni o ti si confisca assolutamente tutto quello che te hai in città e lui dice sì ovvia va bene e ritorno però mettiamoci d'accordo voi mi perdonate non mi fate niente io rientro e lui rientra quando poi la città cade il nostro Michelangelo eh grandissimo artista ma dal punto di vista civico non proprio non proprio il top si nasconde in casa di un amico figlio medicio e aspetta che ancora una volta eh la sua fama e la sua meritatissima eh fama di eh di ehm architetto di di artista di di quello che vogliamo eh gli salvi il posteriore cosa che infatti succede benissimo che eh che succeda ma ecco per capirsi l'importanza del capitale del capitale umano in molti casi è perfettamente perfettamente conosciuto è conosciuto perfino a chi vince quando eh Tamerlano o lo stesso Maometto II conquistano Maometto II Costantinopoli Tamerlano Deli e e così via eh conquistano queste queste città dal massacro che regolarmente accompagna questo tipo di eh di conquiste anche se la città si arresa la città che si arrende dovrebbe non non essere sottoposta al saccheggio quella che invece viene conquistata per tre giorni è eh terra è terra libera eh in questo caso che cosa fanno? Eh preservano il capitale umano più importante e quelli che sanno costruire quelli che sanno le delle la cantieristica eccetera e li utilizzano per i loro per i loro scopi nel o per la ricostruzione delle città o per i loro per i loro scopi l'idea la concezione che il capitale umano debba essere salvato è fondamentale succederebbe lo stesso oggi ho i miei dubbi sinceramente ho i miei dubbi ma qui siamo ovviamente nell'ucronia e quindi vale assolutamente niente sono chiacchiere da bar grazie professor Balestracci quindi diciamo che quasi mezzo chilo di pane al giorno ce lo faremo bastare avremmo fatto tutti una bella dieta saremo tutti quanti belli mi rincuora mi rincuora d'altronde ecco mi rincuora anche il fatto che in quanto universitario sarei stato tutelato in qualche modo parlava di io non so sto cercando di capire se ci sono domande nel frattempo parlava di Tamerlano io sono assioccato proprio dagli dalle feratezze che Tamerlano compie a seguito dei vari assedi che porta davvero di inercepibili e contrariamente la la generosità del Saladino quando riprende Costantinopoli o ancora Maometto II Maometto II quando prende scusate Saladino riprende Gerusalemme Maometto II riprende Costantinopoli prende Costantinopoli tutta la storia della profezia insomma ci sono davvero spunti molto interessanti io non so se qualcuno vuole intervenire con delle domande lascio la parola agli altri eccomi innanzitutto voglio associarmi a Leo e ringraziamente al professore per l'intervento che stiamo ottenendo che è veramente interessantissimo io che sono più diciamo come interesse di studio verso la tarda antichità alto medio avevo riconosciuto però molti elementi che chiaramente sono comuni agli assedi di ogni epoca come anche il professore ha giustamente sottolineato nel suo testo da viene da dire da Alesia fino a Stalingrado abbiamo sempre certi elementi ricorrenti fondamentali ecco sulla base anche di alcuni miei diciamo interessi di area diciamo bizantina mi è venuta una domanda oltre alla considerazione che mi veniva sedi di Costantinopoli che forse la civiltà bizantina in età medievale è stata la civiltà assediata per antonomasia per buona parte dei secoli della sua esistenza ha vissuto nell'ombra di un qualche aggressore di una successione di aggressori che di fatto ne hanno costantemente minacciato l'esistenza e forse anche per questo si è sviluppata una certa produzione di trattatistica militare soprattutto fino all'undicesimo secolo che oltretutto poneva molta attenzione al lato psicologico del conflitto quindi oltre alle battaglie campali mi pare anche durante gli assedi e appunto nelle fortificazioni allora volevo chiederle in area occidentale invece e in età anche magari basso medievale prima moderna nella trattatistica legata agli assedi quanto è frequente questa analisi da un punto di vista psicologico che lei ha richiamato e che ha di fatto costituito il cardine del suo testo molto meno nella trattatistica la troviamo molto meno praticata anche perché non ci dimentichiamo che la trattatistica molto spesso è una trattatistica che lavora diciamo così in modalità cover se leggiamo l'arte della guerra di Niccolò Machiavelli troviamo pagine 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 che sono cover di Vegezio o di altri trattatisti indubbiamente l'aspetto psicologico in questa trattatistica occidentale è meno evidente rispetto a quella orientale quello che diceva lei Carlo Alberto è secondo me molto importante perché lei ha definito la civiltà bizantina come una civiltà assediata per antonomasia non c'è dubbio da questo punto di vista l'impero bizantino subisce una quantità di assedi che poi sono indubbiamente più evidenti per il fatto che lì si è mantenuto lo Stato e quindi è un vero Stato che viene continuamente assediato forse se mettiamo insieme uno dopo l'altro tutti quegli esempi che Leo ha censito per l'Occidente verrebbe fuori qualcosa di abbastanza ma lì è evidente perché è un impero a essere messo sotto assedio e da quelli che vengono definiti correntemente i barbari e dai musulmani e dai turchi e via e via fino al momento della caduta e quindi che un riflesso ci sia sulla trattatistica io ho presente ad esempio molte pagine dello Stato che è molto importante da questo punto di vista veramente molto importante io ci ho trovato degli spunti interessanti che onestamente non ritrovo in quelli in quelli occidentali o meglio in quelli occidentali quelli occidentali cominciano a avere una loro una loro funzione a partire dal rinascimento allora sì perché ma perché perché il rinascimento riscopre l'antichità riscopre certe cose dell'antichità lo stesso Machiavelli non è un nome che si inserisce a caso in questo discorso la riscoperta di 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 Vegezio e così via se guardiamo quelli che sono i secoli dell'Occidente fino a tutto il periodo comunale ma direi che da questo punto di vista la trattatistica ha un ruolo decisamente meno marcato meno significativo e che questo aspetto che lei giustamente sottolineava che è evidente in una certa trattatistica orientale è molto è molto meno meno presente in questo in questo senso sono d'accordo con lei assolutamente sì e poi avevo un'ulteriore curiosità o stimolo in merito alle bocche da sfamare di cui parlavamo in precedenza ecco abbiamo parlato della categoria delle donne di quella anche dei bambini insomma di tutti i soggetti deboli per antonomasia in ambito in tutti i tempi non soltanto nell'ambito medievale chiaramente e io mi sono chiesto invece per quanto riguardava l'ambito ecclesiastico che spesso chiaramente in tempi normali non di assedio anche ne parlavamo prima dell'ambito alimentare godeva insomma di uno da questo punto di vista di un regime piuttosto di abbondanza ecco quando si giungeva al razionamento insomma tutte queste misure necessarie fondamentali per resistere a un assedio come ci si regolava nei confronti delle comunità ecclesiastiche e come venivano percepite se emerge all'interno del diciamo delle fonti ecco allora vengono percepite come non voglio dire intoccabili però certamente gli ecclesiastici non faranno mai parte delle bocche inutili tanto per intendersi e continuano a godere di una di un regime in qualche modo di di attenzione quindi non saranno mai quelli quelli abbandonati anche perché non ci dimentichiamo una cosa che i casi e io ne ho trovati molti eh in questa in questa casistica che ho che ho analizzato e di ecclesiastici che partecipano attivamente alla difesa ce ne sono molti non ci dimentichiamo che in qualche in più di un caso le le organizzazioni militari cittadine fanno capo alle parrocchie sono le parrocchie i punti i punti di riferimento non ci dimentichiamo che gli ecclesiastici soprattutto i i frati forse non tanto i sacerdoti ma i frati che hanno come dire uno statuto psicologico un pochino diverso da questo da questo punto di vista partecipano frequentemente anche alla difesa in maniera attiva imbracciando imbracciando le le armi assedio di Corfu eh siamo nel nel settecento quello che ho messo proprio come ultimo eh esempio eh la leggenda dice 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 che sulle mura di Corfu assediata mentre i turchi vanno all'assalto c'è un monaco con un gigantesco crocifisso di bronzo che tira ranzagnolate da far paura a quelli a quelli che stanno che stanno salendo probabilmente è un'immagine inventata ma non sono immagini inventate gli ecclesiastici che partecipano attivamente anche anche alla difesa quindi gli ecclesiastici non rientrano tra le fasce deboli in questo senso né gli ecclesiastici di sesso maschile né devo dire per quanto ho visto io e quanto ho capito ma confesso che su questo le fonti sono molto reticenti e quindi non vorrei estrapolare più di troppo ma quello che ho capito e mi sono reso conto anche la fascia religiosa femminile i vari conventi monasteri femminili non risultano toccati più di tanti certo quando poi il cibo finisce finisce per tutti e questo non c'è discussione per cui si sta parlando di due piani sbilenchi un piano è quando non c'è più niente da mangiare per nessuno e i problemi sono quali ma quando avviene questo quelli che presentano le criticità sono anche gli stessi aristocratici e sono gli stessi gli stessi esponenti eccetera del certo dirigente che a un certo punto quando non c'è da mangiare per i poveri non c'è da mangiare nemmeno per i ricchi sì è vero d'accordo che in qualche caso ci sono incette c'è la borsa nera e finché c'è la borsa nera chi ha soldi se la cava ma poi arriva il momento in cui la borsa non può essere né nera né gialla né verde né a pallini rosa non c'è più niente da mangiare e questo è un piano l'altro piano che bisogna avere presente è quello di una criticità governata diciamo così una criticità che in qualche maniera in qualche maniera è governabile e lì allora quelle che sono appunto gli ecclesi e o le fasce dei religiosi maschili e femminili comunque sia continuano sempre a avere un occhio a ricevere un occhio un occhio di riguardo non verranno mai inseriti fra le bocchie questo assolutamente la ringrazio mi scusi se la interrompo mi sono arrivata tutta una serie di domande quindi non so se Carlo Alberto ha altre osservazioni no intanto lasciamo parlare il pubblico eventualmente dopo se ci sarà qualche altra domanda non so se devo citare anche le persone che hanno posto le domande comunque una prima domanda riguarda il ruolo della donna ovvero il ruolo e la categorizzazione che essa riceve è rapportato all'epoca e al luogo in cui vive nel caso del basso medioevo e del primo rinascimento ha il suo effetto la nascita di quella che è un'etichetta o comunque determinate norme comportamentali guidate spesso anche dalla chiesa come istituzione non è chiarissima la domanda anche io sono po' non è che cosa voleva dire però sul ruolo della donna ho spiegato ho spiegato precedentemente il discorso dell'etichetta e il discorso del diciamo così di un rapporto indotto dal modo di pensare è un po' quello che è la conclusione di quello che dicevo prima cioè nel momento in cui finisce la normalità la donna ritorna nel cono d'ombra e quindi la risposta è sì tutto questo è indubbiamente forzato e indubbiamente caratterizzato dal ruolo sessista e maschilista della società dell'epoca all'interno della quale Santa Romana Chiesa ha il suo benedetto ruolo per costruire certi tipi di paradigmi per costruire certi tipi di luoghi comuni dopodiché appunto vale un po' quello che abbiamo detto nel corso della nostra discussione chiedevano poi se c'è stata e quanto è stata importante nella contemporaneità degli eventi quindi degli assedi un'epica appunto degli assedi una sua narrazione come momento spartiacque dei conflitti e della storia cioè se si sia sviluppata una dimensione propagandistica io ho altre due domande dopo questa quindi non so se vuole rispondere vado subito con questa assolutamente sì assolutamente sì e ci sono gli esempi eclatanti uno degli esempi eclatanti è tutta la narrazione che si sviluppa intorno all'assedio di Vienna del 1683 non si contano i pamphlet i racconti le costruzioni mitopoietiche tutto questo non ha granché a che fare con la realtà e non ha granché a che fare con la testimonianza perché in molti casi anzi quasi sempre ora volevo dire sempre ma insomma sto cauto siamo in presenza di riscritture il racconto di un assedio molto difficilmente è impresa diretta certo quando uno riscrive probabilmente si capisce che ha preso degli appunti perché se no l'invenzione verrebbe fuori però è sempre direi quella successiva il che significa come dire scelta delle cose da ricordare tagli di cose che non sembrano interessanti o che si vogliono obliterare un certo tipo di narrazione che si vuole rendere lineare chiara in questo senso quindi è questo il discorso che noi dobbiamo fare ogni assedio crea un'epica ogni assedio crea una narrazione ogni narrazione è da mettere sul tavolino prendere il cacciavite e cominciare a svitarla e a decostruirla per capire le sue componenti per capire chi come perché che cosa ha voluto dire e che cosa significa la risposta è sì assolutamente crea un'epica che deve essere considerata tale quindi fonti ma fonti da prendere con un certo tipo di atteggiamento critico c'è una domanda alla quale io vorrei che lei non rispondisse perché ha già risposto all'interno del volume quindi invitiamo di noi i lettori i partecipanti a acquistarlo e cioè mi chiedono qual è stato l'assedio più importante della storia se viene Leningrado Stalingrado Costagnopoli o Troia che anche è citato giusto per restare in una dimensione epica appunto però non rispondiamo a questa domanda perché la risposta è semplicissima non esiste un'assedio più importante di altri ci sono assedi molto molto duri determinanti io in fondo quell'ultimo pezzettino con cui finisco il libro è tre o forse quattro assedi per costruire l'Europa cristiana ma è chiaramente poco più che un gioco di società perché si smonta si smonta facilmente non esiste un'assedio più importante di altri e la prova provata è il fatto che io ho utilizzato assedi giganteschi si accenno anche a Troia Troia di Troia di Troia non sappiamo niente perché l'Iliade è un racconto di battaglie l'assedio in quanto tale sappiamo pochissimo ma ho citato grandi assedi Vienna Torino 1700 706 Firenze Siena San Ser 1573 o sperduti Castelletti di qualche di qualche di sperduta sperduta regione non esiste un assedio più importante di altri esistono gli elementi che da un assedio all'altro in una località all'altra ci aiutano a capire che cosa sia stato il lo stato d'assedi giusto per ricordarlo Troia è citata ben cinque volte all'interno del suo volume e ci sono anche altri riferimenti a castelli propri della narrazione c'è quel castel d'amore travigiano o altri che lei ha citato arrivano anche dei ringraziamenti per questa presentazione non so se sono per me o per lei insomma ce li prendiamo sicuramente sicuramente per lei perché io ho fatto due tasche grosse così hanno una curiosità si ha la notizia di come reagiva il contato circostante la città assediata ma non interessata dall'assedio nel medioevo sono le 10 e 23 abbiamo anche un'altra ora a disposizione perché no 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 tranquillo tranquillo ho visto la faccia smarrita era una battuta no è fondamentale un assedio non coinvolge soltanto il centro assediato un assedio coinvolge il territorio coinvolge il territorio intorno e tutti i trattatisti raccomandano di controllare il territorio se vuoi mettere un assedio il che significa che il territorio è sottoposto a una sollecitazione da parte dell'insediamento che lo controlla che lo distrugge per non dare vantaggi ai nemici ed è utilizzato da chi assedia per risorse per distruggere per non dare vantaggi invece agli assediati distruzione di mulini distruzione delle colture distruzione di tutto una guerra d'assedio non coinvolge soltanto le mura assediate coinvolge tutto il territorio quando poi si parla di assedi come quello di Siena del 54-55 o più ancora di Firenze del 1529-30 a essere coinvolto non è un territorio è uno stato l'assedio di Firenze del 29-30 coinvolge tutto lo stato fiorentino Arezzo Pisa Volterra Prato eccetera 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 quindi sono guerre totali da questo punto di vista l'ultima domanda su una tipologia di evento legata all'assedio la sortita che può essere sia prettamente militare che per fare sabotaggi reperire rifornimenti o perfino scappare come è stato accennato all'interno della conversazione e connessi al fatto psicologico al centro del suo libro ci sono esempi peculiari di sortite sia riuscite che fallite non sono un esperto ma direi che laddove ci sia anche l'elemento mare legato agli assedi la cosa sia più complessa anche come casistica però più elastica ringraziano anche per il libro e per la discussione allora gli assedi di mare hanno una una casistica molto particolare che nel libro troverete appena accennata lo troverete appena accennata perché non per pigrizia ma perché l'assedio di mare necessiterebbe di tutto un approccio metodologico particolare io ne accenno ovviamente ci mancherebbe altro però non lo approfondisco perché altrimenti i libri sarebbero diventati due e non e non uno in questo in questo senso qual era la parte iniziale della sortita le sortite sono meravigliose le sortite sono meravigliose perché sono sortite che in qualche modo devono creare un alleggerimento nei confronti dell'assedio in qualche caso funziona in qualche caso assedio di Montsegur la sortita è una carneficina finiscono veramente veramente male assedi che assedite che funzionano un assedio di Belgrado che inizialmente funziona bene poi funziona peggio perché i turchi si riorganizzano e così via ma dato che ci siamo mi piace finire con una nota piacevole con un racconto piacevole assedio di Firenze del 1529-30 i fiorentini hanno una sortita notturna per alleggerire si infilano come così infuriati e pieni di energia dentro quello che ritengono un alloggiamento nemico è una porcilaia si ritrovano in mezzo a maiali i maiali fanno un casino della miseria e quindi a quel punto mettono in allarme tutto e la sortita va assolutamente ai maiali è il caso assolutamente di dire no le sortite ci sono ma le sortite le sortite vanno vanno calibrate bene perché se c'è una cosa pericolosa la sortita bisogna essere sicuri che quando si fa una sortita per carità 1526 assedio di Siena ancora una volta quello quello precedente la sortita in questo caso funziona funziona bene gli assedianti non se non se l'aspettano di notte si vedono arrivare addosso questi questi infuriati senesi che li li legnano di santa regione si prendono paura scappano e levano e levano l'assedio però è una cosa da calcolare con molta attenzione perché non è una un atto un atto di guerra da sottovalutare c'è veramente da ritornare dentro la città con le corna rotte mi viene in mente nel suo testo le sortite anche per procurare cibo ci sono vari esempi in cui si uniscono società civile e società militare e mentre i militari tengono a bada gli avversari assedianti i civili raccolgono tutto il cibo che possono in questo caso si sono per trovare il cibo ma sono molto pericolose perché su dieci sortite sette finiscono male finiscono male concludiamo l'ultima domanda poi ci salutiamo come avvenivano gli scambi di informazioni tra assedianti e quinta colonne attraverso dei sistemi rucamboleschi Enigma non ha inventato assolutamente assolutamente niente ci sono segnali ci sono persone che escono dalla città con la scusa di andare a cercare qualcosa da mangiare e passano l'assedio di Torino nel 1706 viene beccato una persona viene beccata alle porte c'è in mano semplicemente dei foglietti di carta banalissimi tutti bellini trattagliati tutti bellini facevano gli origami no il vigliacco attraverso tutti quei o almeno così dicono attraverso tutti quegli intagli di carta stava passando informazioni ai francesi su dove erano certi tipi di alloggiamenti dove erano le armi e così via quindi avviene nella maniera più nelle maniere più più racambolesche invito a leggere perché nel libro ne parlo ne parlo con in maniera distesa ma non ne parlo qui perché se no ci si fa veramente mezzanotte quell'invenzione di antispionaggio invenzione perché il Monluc è un grande trappolone se inventa che è una bellezza l'invenzione di quell'antispionaggio fatto da Biagio di Monluc durante la guerra la guerra di Siena che si innesta su alcune cose vere ma che poi le 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 empatizza in maniera interessante lo scambio di informazioni attraverso l'intelligence è fondamentale fondamentale il che poi genera ovviamente tutto il clima plumbeo di sospetti perché con chiunque faccia qualcosa di non protocollare viene preso per una spia eccetera eccetera a Firenze alla fine della sedia sono in uno stato di paranoia da TSO veramente da TSO totale e questo significa che poi Getty viene mandato a morte perché per queste cose si finisce sul patibolo non è che sono chiacchiere quindi è un capitolo fondamentale tragico fondamentale dal punto di vista militare e tragico dal punto di vista del rebound psicologico mi viene in mente giusto l'ultima cosa quando accenna a quella sedia adesso non ricordo quale esattamente in cui gli assediati finiscono per mangiare anche tutti i piccioni per cui non possono più comunicare con San Ser 1573 hanno bisogno dei piccioni viaggiatori per chiedere aiuto dice piccioni se siamo magnati l'hanno fatti in salmiste sono mangiati tutti e piccioni non vi oh ma d'altra parte quando i senesi vanno a trattare la resa e vanno a Firenze perché l'intermediario con l'imperatore è Cosimo dei Medici fanno fatica a trovare dei cavalli per poterci andare perché se sono mangiati tutti quindi ma quella di San Ser è spettacolosa si sono mangiati i piccioni e qualcuno ha chiesto quanto c'hanno ancora a inventare il telegrafo e gli dissero c'è da aspettare ancora un po' beh queste altre gustose ricette su come cucinare pericolari cibi da sedio quali pergamene libri tamburi tamburi di più nel volume del professor Balestracci edito da Il Mulino io lo faccio vedere un'altra volta stato da sedio maggiore anche io assediati assedianti dal medioevo all'età moderna io cedo la parola la ringrazio ancora una volta grazie a voi grazie a lei la parola Carlo Alvestro Carlo Alvestro per un saluto finale non so se sì mi associo anch'io a nome di tutto il gruppo di Casusbelli ai tuoi ringraziamenti al professore per questo incontro veramente interessantissimo e a questo punto segnalo agli ascoltatori l'incontro di martedì prossimo stessa ora e stesso posto ovunque vi troviate in cui avremo un incontro con il professor Giorgio Ravegnani che ci parlerà di organizzazione militare dell'esarcato bizantino d'Italia io avrò il piacere di moderare questo incontro col professore quindi vi invito tutti interessati a diciamo ad appuntarvi questo ulteriore appuntamento e insomma ci vediamo prossimamente grazie a tutti per l'ascolto grazie a Leo per aver assunto l'onere e l'onore di insomma di moderare e introdurre questo incontro e auguriamo io Leo Luca a tutti quanti una buona serata insomma grazie a voi grazie a chi ci ha seguito e grazie a Leo carissimo grazie grazie professore grazie per questa serata